salve in questo video ti faccio vedere come reimpostare la password praticamente bisogna andare qua su questa pagina cliccando su questo mino dove si fa l'autenticazione si clicca qua hai dimenticato la password io metto il mio indirizzo email che è l'indirizzo email con il quale mi sono registrato come cliente su questo sito web clicco su resetta la mia password e a questo punto se c'è un account associato con Federico eccetera eccetera riceverai un email con il link per reimpostare la password a questo punto controllo le mie email ecco qua l'email per reimpostare la password imposta nuova password metto la nuova password qui e la riscrivo uguale qui e clicco su imposta nuova password hai aggiornato la tua password a questo punto posso fare il login con il mio indirizzo email e la password che ho inserito nuova clicco su accedi ed ecco qua entrato dentro il mio account a questo punto poi posso scegliere i filati fare gli acquisti eccetera eccetera grazie 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 a tutti